Il giocatore di basket Jerry West diceva la fiducia è gran parte di questo gioco e di tutti i giochi se pensi di non farcela non ce la farai mai Il manager deve essere in grado di captare stimoli, sfide e input il manager deve essere in grado con velocità di captarli e di guidare il team nel superamento di qualsiasi sfida Devi essere in una condizione mentale per accogliere ma anche per guidare l'innovazione che è una necessità, una necessità per rimanere liberi Ci siamo molto concentrati sul tema del bilanciamento tra vita personale e vita professionale ma conta tanto quanto bene si sta nell'ambiente di lavoro e quando questo avviene sono i talenti che attraggono altri talenti liberamente sponsorizzando, parlando, si sa oggi sono canali molto disintermediati Che sensazione hai su un simulatore? In questo momento di nausea Qual è, secondo te, la giusta velocità? Cioè, è schiacciare per forza l'acceleratore fino in fondo o il saper guidare, cogliere il cambiamento piano piano ci è ancora concesso? Nell'informazione ci è concesso pochissimo A tutti più lonti, più di stop!